Chi se ne importa? Apriamo a questo punto una nuova rubrica robata a cuore, ma chi se ne importa? Diciamo così che riusciamo anche ad andare in discoteca, io vado soprattutto il lunedì, massimo il martedì, ecco. Ebbè, certo, giusto. Oltremente sono andati un po' del... Importante, eh? ...dicd, macchina, un impianto stereo molto valido, perché quando sono in macchina la prima cosa che faccio è accendere lo stereo. Guidare no, eh? Veramente è un ottimo rapporto. Sono un ottimo scettore, ma soprattutto un bomber, sono un centravanti che segna ancora. Ma dai, pelle d'oca! L'unica cosa che non mangio, che sono allergico, è il formaggio, qualsiasi tipo di formaggio. Ma va, meno male che ce l'ha detto, eh? E basta. Ultimamente... Franzetti è un interista, ha una moglie milanista. Ma va! Domenica gli ha fatto il pesto. No! Rivelazione sconcertante. Io sto male, eh? E trenete col pesto. Cioè, mangiare la frutta prima delle minestre. Sì, giusto. E poi alternare, cioè non mischiare i carboidrati con le proteine, cioè o mangi il primo o mangi il primo. Bravo zio, questo è interessante. Questo sto sperimentando da un mesetto a questa parte. Come ti trovi? Insomma, sto abbastanza bene, perché io prima di andare così ho sempre difficoltà a digerire. Ma che schifo! Mi sono sempre regolato, ho sempre mangiato giusto. Io di solito abbinavo a un primo piatto della verdura. E la sera mangiavo il secondo piatto con la verdura. Cioè non mi siamo mai facendo una dieta. Ah, sono cose importanti, eh, da sapere. Io sono molto goloso e per i dolci vado matto. Vabbè.